Non ci sono politici, né amministratori, né esponenti di spicco del sindacato. Tra i 21 indagati per il buco di 10 milioni di euro nei conti dell'Oial CISL di Abruzzo e Molise, mancano del tutto i nomi di politici, che secondo la procura di Pescara al momento sono estranei alla vicenda. L'Oial, istituto di formazione della CISL, conti in rosso, bilanci taroccati, corsi fantasma e col trucco, quattrini svaniti e infilati in conti correnti, bancari e postali privati. Attività di truffa e falso portata avanti per anni, una vera e propria associazione criminale che operava e che si era insediata all'interno della regione e che è riuscita a farsi accreditare, con intrallazzi, ben 34 milioni di euro, di cui 20 incassati dal 2000 al 2006. Questo succedeva, un'associazione per delinquere che ha spillato fior di risorse allo Stato e all'Unione Europea. Eppure nessuno si sarebbe accorto di niente, né assessori e dirigenti regionali, né i vertici del sindacato. All'interno della regione c'era un pull organizzato che intascava palati di soldi illegalmente, ma nessuno l'avrebbe capito. All'interno del sindacato i fondi pubblici destinati alla formazione, agli insegnanti e ai ragazzi, finivano nei portafogli dei privati, portando lenti alla chiusura, allo sfascio e a una disastrosa situazione finanziaria. E neppure nella CISL si sono accorti di quanto accadeva. Possibile? Così pare. Misteri dell'Italia delle truffe. È successo già in diverse altre inchieste abruzzesi, nel caso della Fira finanziaria regionale e nel caso delle tangenti firmate del Turco, caso che lascia fuori dall'inchiesta comunque tanti politici ed ex amministratori regionali, sia di destra che di sinistra. Nell'inchiesta dello IAL CISL sono venuti fuori soltanto i nomi della manovalanza, non di quelli che contano e che manovravano il denaro. Restano molti interrogativi. Chi ha permesso che tutto ciò accadesse? Chi faceva le nomine degli amministratori delegati dell'OIAL? Chi garantiva l'equità del Collegio dei Revisori dei Conti dell'OIAL? Chi controllava in sostanza? E' ancora tutto da vedere. Intanto, ecco gli inquisiti a seguito delle indagini di Procura e di Finanza di Pescara. Nei guai Bruno Colombini, 64 anni di Alessandria, Francesco Gizzi, 48 anni di Pescara, Claudio Graziani, 54 anni di Teramo, Marco Michetti, 35 anni di Pescara, Michele Pomponio, 48 anni di Pescara, Riccardo Caricati, 42 anni di Montesilvano, Ottavio Panzone, 54 anni di Pescara, Antonio Bernabei, 44 anni di Giulia Nova, Renato Terrenzio, 62 anni di Pescara, Moreno D'Anastasio, 46 anni di Cepagatti, Renato Rodomonti, 47 anni di Teramo, Francesco Tribugliani, 57 anni di Giulia Nova, Mario Tribugliani, 61 anni di Giulia Nova, Romolo Scaricamazza, 62 anni di Cellino Attanasio, Antonio Scaricamazza, 56 anni di Teramo, Francesco Paolo Michetti, 62 anni di Pescara, Antonietta Profico, 50 anni di Campli, Vittorio Galante, 52 anni di Teramo, Gaetano Pedicone, 56 anni di Teramo, Enrico Passerini, 51 anni di Bomba, Giuseppe Venti, 62 anni di Pescara.